Ciao a tutti ragazzi, sono Geric e bentornati su Cut Mario 3 Già sono incastrato come un porco perché non mi ha salvato l'ultimo momento e ho dovuto rifare tutto da capo Questo è molto giusto Tra l'altro avevo pure iniziato a registrare e mi ha crashato Comunque Adesso so cosa devo fare e cosa non devo fare Non è vero Già qua c'era arrivato Non mi aspettavo che fossi lì Il bello è che ogni volta dobbiamo aspettare che passano sti dizzi Perché se andiamo avanti Crash Non lo so perché Purtroppo è così, non possiamo farci proprio niente Poi se magari si spregano ci fanno un favore Grazie Allora Quindi Io salto sempre vediamo se c'è gente Oh andiamo Come dovrei fare Cazzo No 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 perché sto facendo sta cazzo Ed e poi c'è dove ho riflettuto da capo No scherzino Quindi Allora Molto semplice Salto qua Come va? Quello mi prende Dio santo Ogni volta Poi sono tanti Madonna se mori Poi mi bestegna Non è vero Non bestegna No Dovevo premere un tasto E non sono riuscito neanche a fare quello E sono pure morto adesso Cosa Rido per non Imprecare La canzone mi sta facendo sentire male E io come cazzo faccio? Non lo so Che poi dove? Aspetta Porca Mamma Non cazzo Come ho fatto? Holy shit Come non mi fido No 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 C'è Mi è venuto di culo Non posso riuscirci di nuovo Cazzo Come se io non avessi tempo da perdere Così avessi Tempo da perdere Porca Eva Come ho fatto? Io come ho fatto E sono ancora meno 11 L'ultima volta che ci ho provato Sei andato a meno 80 Meno 80 Ispira Ispira Oh Come ho fatto? No No La pianta No L'ho scordato La pianta La pianta Vaffanculo La pianta Ormai sono andato ad ombra La pianta La Ehi Sì Holy shit Perché poi Non ci posso Sopra Sopra Oh Mamma Perché Non mi sta piacendo Questa cosa Non ci credo No È arrivata La fine La fine Non è Non ci credo Sapete che significa Che sono ancora qua Ma si può Ma si può Ma si può Ma davvero si può Ma la batteria di questa Telecamera Si scariva Come niente Allora Comunque Questi di prima Mi hanno bussato Dei bastardoni Eh Per cosa Che due Coglioni Però Eh Poi non ho capito Sti cosi che arrivano E fanno graciare il gioco Secondo quale base Perché 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 Non lo so Eri confusi ormai Che cazzo di culo Qua c'è la pianta Gescia Non mi taglio il cazzo Eh si ma calma Qua devo stare attento Come un froge Qua non ho capito Perché Vabbè Allora Cazzo cazzo No No Io non mi fido Non lo prenderò mai E mai Ma ci provo Ho l'eserciato Me lo spaventare E che significa Cosa mi rappresenta Quel muro Che spunta No Tu non puoi Spuntare Non devi Spuntare Perché La cosa mi dà fastidio È che ti aspettare Ogni volta La stafila di coglioni Che passa Per fortuna Ho una memoria buona Più o meno Che culo Si, si Ok Si Ho capito Comento Por favor Force Allora Devo salire qua E non saltare Bensì Non lo so Che devo fare Quindi Salto Salto in culo Oh Che minchia fai Si Porca Eva 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 Minnaggia Non Cioè Non Non ci casco Quindi sarà Una vita Spregata Un tentativo Spregato Però Porca Eva Mi fa Spregato Non ci sa fare Quello di in culo Vai Vai Lo prendiamo Ho anche altre idee Ok Ok Ho un'altra idea No Interesse Stava per crashare tutto No 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 Ma è crashato Tutto Dio Santo Dio Santo Io l'avvio Come amministratore Più Migliore Anzi Che so Che non si può dire Ah merda Acqua c'è la cosa Non lo so Non lo so Ho come l'impressione che è solo io la versione fallata, stronza gay di questo gioco, solo io ce l'ho, l'ho preso in un server cinese, qualche server cinese, non so da dove l'ho potuta prende, file hippo, che cazzo ne so, da dove l'ho presa, levati mousebird, d'aiuto, cado pure come un gay, la cosa è preoccupante, perchè la telecamera dice che l'ho registrato solo 5 minuti, mentre qui siamo a 25, I don't like this, conferma, si ok ok, ci rivediamo quando riesco a capire cosa devo fare, perchè è davvero un best-end, ma non si muoveva più, no, oddio, quello è più, è più noioso di, più noioso contarsi nei, oh amone, dio buono, cazzo, eh, toh, mi ho sbagliato monfroshoi, perchè non doveva cadere, vabbè, ce lo fa, e ce la fa, anche se non si è visto ce la fa, perchè? bene, addio, ciao, ciao, io non lo faccio più, no, vabbè, qua è partita dalla musica, comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, perchè a me non è piaciuto farmi, non è vero, scherzo, mi sono incassato come una bestia, ma comunque adesso esco dal gioco e significa che non mi salva, perchè è stronzo il gioco, quindi devo rifare tutto da capo, perchè ho andato per il G3, perchè non mi piace, è stato molto brutto, detto questo, alla prossima parte, oddio...